Sono De Gabri del Baule della Nonna con questo tutorial abbiamo decorato questo meraviglioso insieme il canovaccio e il grembiulino sempre realizzato da un canovaccio abbiamo rifinito decorato in fondo guardate che meraviglia con dei pezzettini di stoffa e in un precedente tutorial ho dipinto a mano i soggetti e cioè le zucche e i girasoli dove avete sempre il disegno gratis e allora iscrivetevi numerose amiche mie alla prossima ciao